BELLA A TUTTI RGAZZI E' benvenuto in questo nuovo video Sono JJ E' benvenuto in F1 E in questo video vi parlerò del Gran Premo del Messi Questi corsi a domenica Iniziamo subito con questo video Sul Gran Premo del Messi Continuiamo con le soliti movimenti di mercato Che ci sono ultimamente Torna in Formula 1 Pierre Gasly Dopo aver esaltato il presidente GP degli Stati Uniti E accanto a lui viene Confermato Brandon Hartley Al posto di Daniel Kvyat Nella Torra Rosso ovviamente Il sabato Al posto del solito Hamilton Che poi vi spiegherò addirittura Cosa ha combinato Ma è una cosa Proprio inimpensabile Perché vabbè lasciamo stare La pole la fa Sebastian Vett Della Ferrari finalmente una Ferrari in pole Ma purtroppo tutti sanno Che quando la Ferrari fa la pole position Poi c'è sempre qualcosa Che va storto La domenica Comunque secondo Verstappen Terzo Hamilton Quanto bottasi Quinto Raikkonen Con Ricciardo che partiva Settimo No anzi Le ultime file per problemi al motore Ma la partenza Subito Vettel rompe Ciò che era successo Comunque In questa gara Poteva essere decisivo Aveva avere il titolo Se Hamilton Cioè Non era decisivo Con il titolo Cioè Vettel Teneva ancora aperto il titolo Se vinceva Con Hamilton Sesto o inferiore O arrivava al secondo Con Hamilton Diecimo o inferiore Hamilton La partenza scatta bene Ma ancora meglio Verstappen Che passa a Vettel Vettel forse ha usato troppo E ha preso Con il suo flap Della lettone L'auto di Verstappen Danneggiando Il suo lettone Successivamente Ha pensato bene Anche di colpire Hamilton Che ha forato una gomma Quindi Vettel È dovuto tornare ai box Per sostituire Alettoni pneumatici Visto Il carico Di aerodinamico Basso Che aveva avuto Dopo questa rattura Hamilton Anche lui Si ferma ai box Dopo un giro lentissimo Per una foratura Alla posteriore destra Quindi Vettel Si ritrova più in ultimo Ed Hamilton Ultimo Complimenti Vettel Quando parte in pole Deve sempre trovare un modo Per rovinare la sua vittoria Infatti Quest'anno Su 4 ball position Solo una È diventata una vittoria Cioè quella In In Ungheria Finisce anche La gara di Verstappen Sì anche In realtà no Infatti Infatti Si deve ritirare Per un problema Il motore Per la seconda gara Di fila Tanto Verstappen Prosegue Vettel Inizia subito Una grande rimonta Anche se rischierà Un altro contatto Con Massa A differenza Di Hamilton Che resterà Per un casino Di giri Dietro A Sainz Senza Senza riuscirlo A passare Tant'è che Ed è che Hamilton verrà anche Doppiato Cosa che non accadeva Da non so quanti anni Si ritira Si ritira anche Ulkenberg Per un problema Che sembrava Quello che era accaduto Dall'Onso Nel gran premio Cioè Nel test del 2015 Cioè Un problema elettrico Sto detto a Ulkenberg Fermati Ritira la macchina Ritira la macchina Come per dire Che c'era un problema elettrico Rischiava veramente Di farsi male Il pilota tedesco Si ritira anche Hartley Per un problema Al motore Tanto per cambiare Entra la virtuosa Safety car Tutti i piloti Si fermano i box E con questa tattica Perde un sacco Di tempo Perez Che si era fermato Anche prima Ai box Si ritireranno Anche Sainz Sainz E anche Ericsson Come qui vedete Anche lui Col motore in fiamme Tanto è Hamilton Recupererà Fino al nono posto Ma guardate Con anche Una bella lotta Con Alonso Mentre Vett Concluderà quarto Non riuscendo Comunque a passare Raikkonen Che si trovava A grande distanza Raikkonen In realtà Era partito male In questa gara Finendo nono Ma poi Era riuscito A rimontare Riuscendo A finire terzo La vittoria Va quindi Al caro Max Verstappen Ma ciò che Alla fine Non gliene frega Niente Nessuno Infatti Lui Semito Concludendo Nono Una posizione Che conquista Solo due punti Ma visto Il gran vantaggio Che aveva Accumulato Nelle precedenti gare Si laurea Campione del mondo Per la quarta volta Con la Mercedes Guardate Guardate Quanta È felice Anche se Io lo ero Un po' Meno di lui Visto che A me Come sapete Dai miei video Hamilton Mi sta Sul Sul kaiser Sul cazzo Per poche parole Qui guardate La sua festa Come sfascia Le gomme Letteralmente La classifica Quindi vince Botta Secondo Cioè vince Verstappen Secondo Botta Terzo Ragon Quarto Vettel Quinto Con Eccetera Pagelle Verstappen Primo Buonissima gara Nove e mezzo Infatti Non è Sì schiengata All'inizio Ha preso La testa E non l'ha Molata più Ha fatto L'emito Dalla Situazione Poi Parleremo Invece Di Hamilton Perché A mio parere Non è stata Una gara Da campione Del mondo Secondo Botta Storna Sul podio Ma conferma Il fatto Che non Si sta Molto Facendosi Vedere In maniera Poi così Eccitante Arriva Secondo Ma Il ritmo Di Verstappen Lo teneva Nonostante Lui aveva Una mercedes Mentre Verstappen Una red bull Inoltre Tra Giuggo Che Verstappen Se non Avesse avuto Tutti Questi Ritiri Io penso Che Che sia Ricciardo Che forse Anche Raikkonen Li stuprava Malissimo Passandoli Nella classifica Terzo Punto Il nostro Caro Finlandese Kimino Raikkonen Che Che Comunque Sul Poglio Chiaramente Ma Se no Non si Chiamerebbe Kimi Raikkonen Non ha Esultato Però Buona gara Io gli do Nove Perché Ha rimuotato Dalla Nona posizione Arrivato Terzo Secondo Poglio Di fila Forse Si sta Riprendendo Dopo Una Stagione Leggermente Deludente Io mi aspettavo Di più Da lui Qualche Vittoria Quarto Vettel Nove Anche lui Se non è stato Per l'incente Iniziale Dove Quello Che Ha più Colpi Ma Comunque È un Centro Di gara Quindi Io Non Avrei Sanzionato Nessuno E Sto Il Caro Vettel Ha Fatto Una Buona Rimonta A differenza Di Quello Che Poi Parleremo Di Hamilton E Gli do Nove Bravo È Arrivato Quarto E Raikkonen Non lo Poteva Prendere Ma Trovarsi Ultimo Rimondare Arrivare Quarto Mi Sembra Anche Una Buona Rimonta Ocon Quinto Ripeto Per Enesima Volta Che Le Cari Force India Hanno Sempre Queste Posizioni Dalla Quinta Alla Decima Seconda Gara Di Fila Dove Ocon Batte Il Compagno Un Quasi Debutante Quinto Infatti L'anno Scorso Aveva Fatto Qualche Gara Con La Manor Ma Nessuno Si Aspettava Che Avesse Potuto Fare Del Risultati Del Genere Passato Alla Force India Si Forse Anche Gente Come Bianchi Come Chilton Come Mary Come Qualcuno Così Se Andava Alla Williams Faccia Alla Force India Faceva Qualche Risultato Del Genere Però Vabbè Sesto Stroll Ritorna Dopo Un po' Si è Stato Da Fare In Questa Gara Differenza Delle Gare Precedenti Dove Er Stabbonato Alle Ultime Posizioni Dalla Classifica Battuto Il compagno Di squadra Io direi Che anche Lui È Sesta Una Buona Gara Perez Non Tanto Come Stroll Arrivato Settimo Sì Ma A Spendere Dalla Strategia Arrivato Di nuovo Di Sardo Con Inoltre Ha Anche Spendere Strategia Visto Che Si è Fermato Due Volte Dato Che Si era Fermato Anche Prima Della Virtua Safety Car Perdendo Una Marea Di Tempo Ottavo Magnussen Davanti Al Copagno Di Squadra Magnussen Non È Un Pilota Dei Più Grandi Sinceramente Però Però Davanti Come gli squadra Appunti La Ass Ha quasi Andato A prendere La Renault Nel Classifica Costruttori Se La Renault Continua Ad avere Guasti Ma Non Credo Penso Che La Renault Possa Andare Seriamente A Prendere La Toro Rosso Forse Anche La Ass Si impegnano Questi Della Scuderia Tra L'altro La Ass Non so Se Voi Siete Accorti Ma Un Nome Che In In Vuol Dire Culo Quindi Cioè Inoltre È una Scuderia Americana Quindi Quindi Non è Una Scuderia Non so Cinese Dove In Cina Ass Non Vuol Dire Culo Quindi Una Scuderia Di Un Paese Dove Si Parla L'inglese E Dove Quindi Lo sanno Che Vuol Dire Culo Il Nome Della Scuderia Passiamo A Luigino No 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 Campione Del Mondo Gli Do Sei Però Perché Non è Dove Si è Meritato Il Titolo Se L'hai Meritato Tutto L'anno Ma Ha Dimostrato Una Cosa In Questa Gara Che È Bravo A Fare Pole Position Partire In Testa Fare Grunge L'em Giro In Testa Cazzo Vuoi Ma Non è Forse Così Bravo A Rimontare A Differenza Di Vettel O Di Verstappen In Questa Gara Si è Visto Verstappen Che Faceva L'Hamilton E Hamilton Che Faceva Non dico Il Verstappen Però Il Remontone Faceva Dico Che Non sia Bravo Ma In Questa Gara Non Si è Per Niente Non Si è Per Niente Veritato Il Titolo Andiamo Avanti Infatti Dopo Hamilton C'è Alonso Decimo Questa Gara La Onda Comunque Non Stata Poi Così Penosa E Riuscita Ad Va Bene In Confronto All'inizio Dell'anno Dove È Stato Per Un Certo Periodo Dietro Alla Cara Sauber Direi Che Arrivare Decimo Va Bene Per Lui Undicesimo Massa Dietro Al Scompagno Di Squadri Penso Che Massi Un Pilota Finito Dietro Stroll Però Dodicesimo Van Dorn Considerando Che Lui Alla Nostra Sono Partiti Dietro Anche Stroll In Che Ci Sta Come Posizioni Gasline Anche lui È partito Dietro Sotto Le Qualifiche Problemi Per La Renault È Sotto L'unico Dei Motorizzati Renault Insieme a Verstappen Ad arrivare al Traguardo Anche se È Arrivato Tredicesimo Io Penso Che La Red Bull C'è La Torre Rosso Comunque Dopo Aver Andato Via Science Che Chi Ha Troppo Però Dopo Aver Manato Via Science L'abbia Perso Forse Quel pilota Che Gli Dava Punti Che Che La Facevano Arrivare Comunque Tra i Primi Poi Parleremo Di Science Verline Quattordicesimo La Sappiamo Che Ormai La Sauber Non È Competitiva Quindi Evito Anche Di Esprimere Moltissimo Grosjean Non ci Siamo Considerando Il Compagno Di Squadra Che È Arrivato A Punti La A Secondo Dovrebbe Cambiare Piloti E Magari Uterebbe Qualcosa Di Più Forse Dovrebbe Puntare Magari Su Giovani Come Leclerc Giovinazzi Anche Chi Viat Magari Fa E vendere Stipiloti Magnussen E Chi Viat Cessi E Grosjean Sì Giovinazzi Ha corso le prime due gare Con la Sauber Senza ottenere punti Però le prime due gare In carriera Inoltre E inoltre Con la Sauber Che sappiamo Che quest'anno Ha ottenuto solo Dei punti Con Verlain Che io penso Meriti di più Anche il posto In Williams Sicuramente Si sarà Incazzato Come una Belva Dopo che Il compagno Coni È andato Alla Forse India E lui Che Che nel 2016 Aveva dato sicuramente Di più Dei compagni Di squadra Che ha avuto Cioè Arianto E appunto Con Si è rimasto Alla Sauber Che Cioè Si è andato Alla Sauber Che è una squadra Che negli ultimi anni Ha preso il posto Della Manor Praticamente Tutto quest'anno Ericsson Ritiro Problema Problema al motore Per tutti i motorizzati Renault Si deve dare da fare Brandon Hartley Anche lui problemi Anche lui problemi L'Arenoc Oggi non c'è Hulkenberg Ha avuto lo stesso problema Che secondo me Ha avuto l'Alonso Quella volta Nel 2015 Purtroppo Non ci siamo Innesima gara Fuori dai punti Non è stata colpa sua In questo caso Però se vuole rifarsi Un po' il classifica piloti Dato che potrebbe battagliare Con Massa E Stroll Che ha superato Sia Hulkenberg Che Massa Potrebbe ancora battagliare E se ottiene Qualche buon risultato Potrebbe anche arrivare Sesto O settimo Ricciardo Seconda gara Di fila fuori Se continua così Si fa passare Anche da Raikkonen Nel mondiale pilotido Mentre Perché quest'anno Io penso che Ricciardo Abbia avuto Un culo della miseria In tutte queste gare Che è arrivato a podio E ha anche vinto Ma ora che Si ritrova Anche lui Ad avere guasti Non può nulla Col compagno di squadra Verstappen Ricciardo si deve dare Di più da fare Per far capire Che forse Non è stata colpa Dei guasti Del suo compagno di squadra E non solo Se ha conquistato Tutti questi podi Caro Ricciardino Ti devi dare da fare Do zero Alle motori Della Renault Cioè Questa gara Ci sono stati più I motorizzati A non arrivare Che quelli Ad arrivare Al traguardo Complimenti Praticamente C'è questa gara Di Renault Su sei macchine Dato che la Renault Forse anche otto No la Perché non so se la Sava per sede La Renault Su sei macchine Cioè Renault Toro Rosso Red Bull Sono arrivati Al traguardo Solo Verstappen E Gasly E forse anche La Sauber Forse è ancora Della Ferrari Però non mi ricordo Quindi evito Comunque la Renault Questa gara Non c'è stata Per niente Questo video Termina qui Spero vi sia piaciuto Questa analisi Guardata la gara Ho anche dato Un po' il mio parere Sull'incidente Di Vettel Al via Dove io credo Che se c'è da dare Una colpa Ma che comunque La gestione Della direzione Gara Sta giusta È di Vettel Sì Io dico Sei ferrarista Insulti Hamilton Ma non insulti Vettel Hamilton L'ho insultato In questa gara Perché non è stato Per niente Bravo Per niente Quindi Ci sta Cioè Questa gara Non ha meritato Il mondiale Comunque Termina qui Questo video Iscrivetevi al canale Mettete di piacere il video E commentarlo Ciao ragazzuoli